Gestiva per conto di alcuni comuni pescaresi, Turri Valignani, Letto Manopello e Popoli il servizio di riscossione tributi, ma quanto incassato non arrivava nelle casse pubbliche. I finanzieri della tenenza di Popoli hanno arrestato un 63enne titolare di una società di riscossione tributi che invece di versare il denaro riscosso nelle casse degli enti locali lo avrebbe trattenuto illecitamente destinandolo a scopi personali. Le indagini delle fiamme gialle coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara hanno preso il via dalla denuncia di alcuni amministratori locali che inspiegabilmente non avevano ricevuto le rendicontazioni periodiche e soprattutto avevano constatato il mancato versamento delle somme dovute, canoni per il servizio idrico, consumi di energia elettrica, affitti di alloggi comunali incassate per loro conto. Gli accertamenti hanno consentito di capire il meccanismo illecito ideato dagli indagati. I due amministratori delle società di riscossione, succedutesi nel tempo, tramite l'espediente di lasciare aperte le posizioni contabili dei singoli contribuenti, avrebbero nascosto ai comuni l'entità degli incassi effettuati, impedendo così qualsiasi forma di controllo o di intervento. Complessivamente dal 2008 al 2014 sono stati distratti oltre 400 mila euro. I finanzieri hanno documentato con le loro indagini come il denaro sarebbe stato speso per l'acquisto di beni di lusso, viaggi all'estero e soggiorni in villaggi turistici. Sulla base di quanto accertato, la procura della Repubblica di Pescara ha ipotizzato il reato di peculato per due persone, in quanto amministratori di società incaricata di pubblico servizio. E nei confronti di uno di questi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.